Con il nuovo servizio Reggio Emilia Segnalazioni, puoi inviare al Comune di Reggio suggerimenti, segnalazioni e reclami, in qualsiasi momento della giornata e ovunque ti trovi. Puoi segnalare disservizi o problemi, suggerire soluzioni, inoltrare un reclamo formale per il quale avrai diritto ad una risposta. Accedi al sito www.comune.re.it slash RESS da smartphone, tablet o da PC. Invia la tua segnalazione. Se segnali, ci aiuti a migliorare i servizi e la cura della città. RESS. Facile. Collaborativo.